il fumetto può essere veicolo di informazione, veicolo di cultura, lo sappiamo bene, non soltanto con la narrativa ma anche con dei manuali o una sorta di manuali, quello che si definisce edutainment, ovvero educational and entertainment, fusi assieme in un unico prodotto, unico prodotto come sulle tracce del DNA, pubblicato da Editoriale Scienza, casa editrice che pubblica diversi volumi per bambini, per ragazzi di scienza, come dice il nome della casa editrice, e una sottodivisione del suo catalogo è Scienza Comics, ovvero fumetti che continuano a cercare di infilare qualche concetto nella testa dei giovani lettori, ci riesce con un medium che noi amiamo molto, il fumetto, che proponendo immagine e testo assieme riesce ad essere più efficace nella trasmissione di concetti a volte un po' difficili, tipo il DNA, quei piccoli pezzetti di puzzle, quei tasselli di mosaico che abbiamo dentro di noi e che compongono il nostro corpo, le nostre cellule, il DNA viene sviscerato in questo volume che ha per protagoniste ambra e blu, due gemelle che si ritrovano all'interno del corpo umano, vengono rimpicciolite e si fanno strada fisicamente, le vediamo proprio entrare in un poro, che detta così potrebbe sembrare qualcosa di strano, ma le vediamo proprio introdursi all'interno del nostro organismo per andare a studiare da vicino come è fatto questo misterioso DNA. Che cos'è? Cercano di spiegarlo al lettore, ma cercano anche di capirlo loro per prime, perché non gli è proprio chiarissimo. Il fumetto quindi le fa incontrare con diverse componenti appunto del DNA, dell'RNA, insomma tante particelle del nostro organismo, inanellando una serie di concetti, ma il contenitore, il modo in cui sono confezionati, forse non è il più efficace. Perché? Perché intanto c'è un'alternanza bizzarra fra fumetto, quindi ogni capitolo ha una componente di fumetto e una di testo. Ci sono proprio delle pagine di testo che spiegano come un manuale, vedete? Proprio quello che è già stato incontrato dalle protagoniste durante la storia, se così possiamo chiamarla. C'è un flebile viaggio, non c'è una vicenda vera e propria, però il fatto che ci sia prima l'incontro e poi la spiegazione ha una dinamica, ha anche una struttura recettiva nel cervello del lettore, molto da libro di testo. Questo probabilmente potrebbe essere un buon compendio a un sussidiario di scienze. Fare incontrare le protagoniste dei personaggi, delle cellule, degli organismi, dei microorganismi del nostro corpo e poi dopo successivamente spiegarli porta quasi a far tornare indietro il lettore a rileggerli, perché aspetta, allora quello che io ho visto, quello che abbiamo incontrato era quello. Forse dovrei saperlo prima. A questo punto il fumetto è accessorio ed è un po' un peccato, anche perché nelle parti testuali vengono spiegati un sacco di concetti, quasi il doppio, il triplo di quelli che ci sono nelle pagine a fumetti. Quindi in 4-6 pagine troviamo l'equivalente di un capitolo intero a fumetti. E allora io mi chiedo, ma tutti quei concetti non potevano essere inseriti nel fumetto? Il fumetto non è lì apposta per spiegare le cose in modo visivo, divertente? e infatti il viaggio di queste due protagoniste risulta un po' vuoto. Si stanno sempre a parlare addosso, guarda c'è quello, guarda c'è quell'altro, però una volta che abbiamo di fronte l'RNA, perché non ci viene spiegato tutto lì? Ah ok, ci interagiamo un po', lo salutiamo, ciao ciao, e poi alla fine del capitolo un bel testo, solo testo, con qualche immagine a corredo, mi spiega che cosa abbiamo visto. Eh no, il fumetto sta lì apposta per spiegarlo in modo più sinergico fra testo e immagine. Peccato, è un'occasione un po' sprecata. C'è un po' di confusione anche perché le protagoniste sono due gemelle e avere come unici due esseri umani, due gemelle, in un fumetto che non ha proprio un pantheon ricco, avere due protagonisti che si spalleggiano caratterizzati in modo differente avrebbe aiutato. Invece abbiamo queste due protagoniste simili identiche, anche se poi loro stesse ci dicono siamo gemelle, siamo identiche, ma al DNA non è proprio lo stesso stesso. Eh sì, però a me lettore risultano una sorta di qui-quo-quo indistinguibili. È un altro valore aggiunto che avrebbe potuto esserci e non c'è. Potevo avere due protagonisti che si dividevano la scena e ho questi due similcloni perché non c'è differenza, non molta differenza tra una e l'altra. Con loro c'è un pulcino, è una sorta di avatar dell'autrice che prima è presente in carne e ossa, almeno su carta, quindi l'autrice presenta il fumetto però poi deve salutare i personaggi. Ciao, scusate, torno su a disegnare e quindi gli lascia un pulcino parlante che è un po' la voce della coscienza, un po' la voce dell'autrice. Mi fa ridere perché si chiama Pio. Ci sono un paio di situazioni in cui una mente maliziosa potrebbe pensare male. Pio che ansia potrebbe essere fondamentale con altro di più religioso. Un'altra, secondo me, un'altra occasione sprecata è in tutti gli organismi che incontriamo. Non sono ben caratterizzati graficamente. Graficamente abbiamo delle bolle, dei blob, però sono tutti molto, estremamente semplici. non c'è uno studio particolare per farli diventare accattivanti. Sono delle chiazze di colore, con gli occhi e la bocca. È un peccato, è un peccato. Pensiamo al lavoro che era stato fatto, è un metodo di paragone che non si può non tirare in ballo. Quando si parla di viaggi dentro il corpo umano, pensate al lavoro che era stato fatto in Siamo Fatti Così, la serie animata. ogni microrganismo all'interno del nostro corpo aveva una sua estetica, una sua caratterizzazione. Era un personaggio, era un personaggio costruito. Qui sono personaggi perché viene detto, ok, ciao, tu sei una proteina. Non basta, non basta, peccato. E un altro difetto che ho notato, mi sono chiesto, ma perché non mi sembra tanto un libro di testo e poco fumetto? O meglio, la struttura è quella del fumetto, a tutti gli effetti. Però non c'era... mancava qualcosa di narrativo. I concetti non mi entravano in testa. e dire che un briciolo ne so di DNA. Non sono un esperto, però un briciolo ne so. I concetti. Perché non mi sembrano trasmessi nel modo più efficace? E ho capito, sempre andando a ripescare nella mia memoria Siamo Fatti Così, un qualcosa che manca e che avrebbe aiutato molto a far capire anche al bambino l'importanza di tanti elementi che si incontrano. Manca un riscontro di tutto ciò che avviene dentro il corpo con l'esterno. Siamo fatti così se veniva analizzata una sinapsi o l'ossigeno o i globuli rossi. Poi si usciva dal corpo e si vedevano le conseguenze di quello che succedeva dentro. E questo era immediato, era un modo perfetto per far capire quello che succedeva. Qui, rimanendo sempre dentro, si ha l'impressione che sia soltanto un... un libro di scienze con i personaggi, le due protagoniste, che intervistano le molecole. Peccato, peccato, perché poi alla fine, ecco, il finale invece mi è piaciuto, il finale in cui improvvisamente tutto diventa più narrativo, perché loro due escono, fanno un rapporto all'autrice di quello che hanno incontrato. Sono in un giardino, tra l'altro, incontra uno strano koala medico che gli parla di Mendel con... mi ha fatto ridere... con un surreale Mendel che coltiva le patate, le fa sposare. Cioè, una deriva surreale che mi è piaciuta nel finale, però ecco, nel finale diventa un fumetto a tutti gli effetti, con interazioni. Prima è un libro di testo che fa il suo dovere mascherato da fumetto. Utilizza il medium fumetto, perché tra di niente ci sono i personaggi, ma non ha grinta, non riesce a fare quel balzo che hanno altri prodotti di edutainment. Perché l'edutainment, diciamola fuori dai denti, può essere anche una lezione mascherata. Perché? Perché il mio obiettivo è insegnarti qualcosa. Va bene, devo trovare degli stratagemmi per renderli divertenti, per non farti rendere conto, ragazzino, bambino dell'elementare, ragazzino delle medie, non ti devo far rendere conto che stai studiando. Lo faccio divertendoti e quindi tu impari senza dire uff, che noia. E qui quel substrato di intrattenimento, di svago, di gioco, è troppo flebile. È troppo flebile e si vede ancora l'ossatura sotto da, oddio, una lezione di scienze. Peccato, peccato perché l'idea era buona, i personaggi non sono granché, le caratterizzazioni grafica a me non fa impazzire. Però, come vi dicevo, può essere un buon complemento se il vostro bambino, se il vostro ragazzino deve ripassare scienze, non ha capito nulla del DNA, facciamo un tentativo con questo volume. Sulle tracce del DNA, pubblicato da Editoriale Scienza. Grazie.